Salve amici, come state? Benvenuti. Oggi vi porto un'anteprima speciale di Terra Amara. Fekeli si reca in salotto dove sente Beaccais parlare di un falò e glielo chiede. Beaccais spiega che stava parlando con Mugeigan del settimo giorno di preghiera per il mazze che, poiché non c'è molto spazio, pensa che sia meglio che le donne stiano all'interno e gli uomini all'esterno, ma che a causa della notte fredda sarebbe una buona idea fare un falò, perché tutta la città vorrà partecipare al settimo giorno di preghiera. Fekeli risponde che le preghiere si terranno nella moschea, così Beaccais è sorpresa. Mugeigan chiede perché vuole farle lì quando potrebbero farle in casa. Fekeli risponde che vuole solo fare la cosa giusta, così Mugeigan gli chiede se lo fa per Zulia, che si sentirebbe a disagio in casa. Fekeli risponde di sì e che vuole che Zulia partecipi perché vuole che coloro che amavano il mazze vadano alle preghiere in modo che possa riposare. In pace. In seguito Beaccais e Mugeigan si recano nella sua stanza. Beaccais chiede a Mugeigan cosa sia successo perché sembra scoraggiata. Mugeigan le dice che suo marito è morto ma che tutto è rimasto uguale perché Zulia continua a intromettersi nelle loro vite e che le cose girano. Intorno a lei. Beaccais risponde che non importa. Ma Mugeigan dice che se Zulia vuole partecipare alle preghiere dovrebbe andare a casa sua invece di dover riorganizzare tutto per lei. Beaccais le chiede di smetterla perché non resteranno lì a lungo. Mugeigan le chiede cosa intende. Beaccais dice che vuole andarsene il prima possibile e che per rispetto a Ilmaz e Fekeli aspetterà tre mesi. Beaccais le dice anche che quando Fekeli starà un po' meglio gli parleranno per dargli ciò che gli spetta dalla fortuna di Ilmaz e se ne andranno. Perché a lei non importa di Zulia ma di riavere la vita che meritano. Mugeigan risponde che non gli importa dei soldi. Allora Beaccais le urla che dovrebbe preoccuparsi perché si tratta del futuro di Kerem e che sono fortunati perché se Ilmaz fosse morto dopo il divorzio non avrebbero potuto ottenere nulla da lui e sarebbero stati infelici. Mugeigan le ricorda che lavora e ha un buon stipendio. Allora Beaccais le urla che non sarà sufficiente e che ha bisogno che si comporti bene per i tre mesi in cui resteranno lì. Il giorno dopo alla villa si parla del caso di Ankar. Demir dice che si sono trovati solo alcuni indizi ma non c'è nulla di concreto. Quindi ha intenzione di andare alla polizia per chiedere informazioni. Sermin arriva e Demir lo saluta. Sermin gli chiede dove sta andando ma Demir dice solo che ha delle cose da fare e se ne va. Sermin gli augura buona fortuna e si siede accanto a Sevda e Zulia. Sermin chiede a Zulia come si sente visto che sono passati sette giorni dalla morte di Ilmaz. Lei sorride amaramente e non risponde. Così Sermin le fa le sue condoglianze dicendole che gli dispiace perché sa che è molto difficile. Ma il tempo guarisce tutto. Commenta anche che questo è l'ultimo giorno in cui si terranno le preghiere e che Fekeli è stato molto attento perché ha voluto tenere le preghiere. In moschea in modo che lei potesse partecipare. Perché sanno che non si sentirebbe bene a stare nella stessa casa di Beaccais e Mugeigan. La sera Mugeigan va a salutare Beaccais chiedendole di prendersi cura del suo kink. Beaccais indica che se alla moschea Sermin fa qualche commento fastidioso di ignorarla. Mugeigan annuisce e se ne va. Alla moschea si tengono le preghiere e Zulia vi partecipa. Alla fine alcune persone commentano disgustate che Zulia tratta Sevda come sua suocera al punto di accompagnarla alle preghiere. Inoltre Zulia continua a vivere nella villa anche se doveva divorziare da Demir. Quindi si chiedono se divorzieranno o meno. Da parte sua Demir fa le condoglianze a Fikret e Cetin. Ma Fikret lo guarda con sospetto. Zulia va al cimitero e davanti alla tomba di Ilmaz piange la sua perdita. Dicendo che è devastata e a pezzi perché sono passati giorni da quando lui se n'è andato e lei è rimasta senza il suo amore e la sua compagnia. Gli dice piangendo che non avrebbe mai immaginato che tutto questo sarebbe accaduto o che sarebbe dovuto andare in moschea a pregare per lui. Perché non avrebbe mai pensato che l'avrebbe lasciata. Nel frattempo Fekeli parla con Ankar guardando il suo quadro. Gli dice che anche se non potranno mai stare insieme. Avrebbe voluto che Ilmaz e Zulia lo facessero. Ma che la morte ha impedito anche a loro di stare insieme e di avere la vita che volevano. Dice che vorrebbe che lei fosse con lui per aiutarlo ad affrontare il dolore che prova e che vorrebbe poter rivedere i suoi occhi. Dopo tre mesi Demir vede con tristezza le cornici nel suo ufficio con le foto di sua madre. Di Zulia e dei loro figli. Zulia si reca nella stanza di Ankar dove organizza le sue cose ricordandosi di lei. Dice rattristata che Ankar l'ha ferita molto. Ma poi ha mostrato rimorso ed è persino diventata una madre per lei. Quindi l'ha perdonata e desidera che possa riposare in pace. In quel momento arrivano Saniyai. Fadik e Gulten. Zulia sorride loro e regala a Saniyai un gioiello di Ankar come ricordo. Dicendo che Ankar l'ha amata come una figlia e avrebbe voluto che lo avesse lei. Saniyai dice che Ankar non solo l'ha portata alla villa. Ma le ha anche offerto la sua amicizia ed è diventata la nonna di Uzum. Quindi le deve tutto quello che è ora e non potrà mai dimenticarla. Zulia risponde che Uzum vuole studiare medicina. Così quando si laureerà potrà indossare il gioiello di Ankar e forse potrà indossarlo anche al suo matrimonio. Saniyai prende in lacrime il gioiello e abbraccia Zulia ringraziandola per la sua fedeltà a Ankar. Zulia chiama Gulten per dare anche a lei un gioiello. Dicendole che Ankar desiderava molto essere presente al suo matrimonio. Gulten piange dispiaciuta per quello che è successo a Ankar e prende il gioiello. Zulia chiama poi Fadik dicendole che Ankar l'ha apprezzata molto e le dà un altro gioiello come ricordo. Fadik la abbraccia commossa e Zulia li vede felici. Zulia si cambia e vede una foto di Ankar per dirgli che ora può riposare in pace. Perché lei porterà avanti la sua eredità e proteggerà la sua casa e la sua terra. A cui ha dedicato la sua vita. Esce a salutare i braccianti per dire loro che Ankar li ha affidati a lei. Che si occuperà dei loro problemi e che se hanno bisogno di qualcosa possono cercare lei o Saniai per aiutarli. Unit arriva a Kukurova ma durante il tragitto buca una gomma. Demir la vede e si ferma per aiutarla. Unit scende dall'auto e Demir rimane colpito dalla sua bellezza. La saluta e si offre di cambiarle la gomma. Lei va a prendere la ruota di scorta e Demir la aiuta. Zulia torna alla villa. Dove Saniai la accoglie allegramente. Zuliai le chiede di radunare tutti i lavoratori. Una volta riuniti Zuliai li saluta e dice loro che ora continuerà con l'eredità di Ankar aiutando chi ne ha bisogno e che. Come ha fatto Ankar. Si occuperà anche di matrimoni e cerimonie per coloro che non possono permetterseli. Quindi tutti coloro che hanno bisogno di lei possono cercarla per ricevere il suo sostegno. Nel frattempo Demir e Umit fanno conoscenza e Fikret rompe con rabbia la lapide di Adnan Yaman. E così si conclude quest'anteprima. Alla prossima!